L'immagine della famiglia, come Dio la vuole, composta da un uomo e una donna, oggi è deformata mediante potenti progetti contrari sostenuti da colonizzazioni ideologiche. Così oggi Papa Francesco ricevendo i rappresentanti dell'Equipe Notre Dame in occasione del loro raduno mondiale. A tutti il Pontefice ha chiesto di pregare per l'imminente Sinodo dei Vescovi dedicato proprio a queste cellule vitali della Chiesa e della società, così come pure per le famiglie ferite, oggi tanto numerose a motivo della mancanza di lavoro, della povertà, di un problema di salute, di un lutto, della preoccupazione causata da un bambino, dallo squilibrio provocato da una lontananza o un'assenza. Dobbiamo avere il coraggio di entrare in contatto con queste famiglie, ha aggiunto Papa Bergoglio, invitando i presenti a essere missionari e strumenti della misericordia di Dio, in maniera discreta ma generosa, materialmente, umanamente o spiritualmente, in quelle circostanze dove esse si trovano vulnerabili. Una coppia unita e felice, a concluso, può comprendere meglio di chiunque altro, come dall'interno, la ferita e la sofferenza che provocano un abbandono, un tradimento, un fallimento dell'amore.